Io sono Matteo Puppello, sono responsabile progetti per Cosentino Triveneto. Cosentino è una multinazionale spagnola di origine italiana che si occupa di produrre grandi lastre. I due brand principali che produce Cosentino sono il Decton e il Silestone. Decton è il prodotto studiato appositamente per l'applicazione di facciata e in generale per tutte quelle che sono le applicazioni in esterna. La collaborazione con Isopan è nata quest'anno per riuscire a dare un pacchetto appunto che comprendesse la pelle, quindi la parte estetica, ma anche la parte isolante in un sistema di facciata ventilata che possa garantire anche un miglioramento dal punto di vista energetico degli edifici. Il materiale Decton nasce appositamente per l'applicazione di facciata ventilata, nello specifico è un materiale a base silicio, quindi una base vetrosa per un 50% circa, un 30% polvere di quarzo e un 20% materiale ceramico. La caratteristica principale di questo materiale è che viene pressato a una pressione di 25.000 tonnellate, che per darvi un'idea è l'equivalente di circa due torre Eiffel e mezzo di pressione sulla lastra. La lastra misura 3,20 m per 1,44 m, quindi una grande dimensione che permette ovviamente al progettista di poter essere il più creativo possibile, può permettere di utilizzare veramente dei grandi formati. E poi si parla di spessori. Decton è disponibile in quattro spessori 4 mm, 8 mm, 12 mm e 20 mm. La scelta dello spessore è legata al tipo di ancoraggio che si va a utilizzare sul sistema di facciata ventilata. I più comuni sono quelli di fissaggio a vista. Fissaggio a vista solitamente viene realizzato con spessori che variano dal 4 all'8 millimetri. Per utilizzare dei sistemi invece di fissaggio nascosto meccanico si va su spessori più alti, quindi intorno ai 12-20 mm. Il materiale ovviamente per l'applicazione di facciata è fornito di rete retrostante che ne garantisce oltre che una maggiore compattezza una sicurezza nel caso malaugurato in cui la lastra dovesse danneggiarsi. È possibile anche l'applicazione di Decton con un fissaggio chimico che sia un collante ovviamente certificato per l'applicazione in facciata e anche in questo caso si utilizzeranno spessori più bassi, quindi il 4 e l'8 mm. Oltre a Decton il nostro altro brand è il Silestone. Il Silestone è un agglomerato di quarzo nato appositamente per l'applicazione sui top di lavoro, quindi top per bar, top cucina, bagni e quant'altro. La caratteristica di Silestone, a differenza di Decton, è che il materiale presenta un corpo in cui la venatura, quindi l'effetto, il disegno, passa attraverso lo spessore del materiale. Proprio per questo motivo il materiale parte da spessori più alti rispetto a Decton, da un 12 mm a un 20 mm a un 30 mm. Silestone è un agglomerato minerale che unisce la polvere di quarzo e altri minerali con una resina che è presente per circa un 5% e fa da legante. La resina è un materiale organico, motivo per cui il Silestone è utilizzabile esclusivamente all'interno.